weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia quante novità sono state inserite nelle ultime ore di fortnite ovviamente si parla della collaborazione di fortnite con it ne stanno parlando tutti in tutto il mondo in tutte le salse e nel video di oggi abbiamo delle grandissime novità che voglio farvi vedere vi do già un anticipo ci sarà un set di it non voglio dirvi altro non voglio dirvi altro parleremo anche però di un altro argomento molto scottante proprio delle ultime ore il caso tfue ragazzi ha perso 140 mila dollari come ha fatto ve lo spiego ovviamente è sempre in mezzo tfue come il prezzemolo perché sempre si fa bannare per dei soldi non so come mai e ovviamente ragazzi un bel po di leaks una sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella non ce l'ho notifica sui miei video e sulle mie live ma prima e ve la devo ve la devo fare la domandina che posso bypassarla ragazzi domandina molto interessante sono curioso di leggere i vostri commenti qui sotto perché c'è un altro argomento abbastanza aperto non importante come i precedenti ma abbastanza interessante ma a te quale variante ti piaceva di più della skin astro che una volta si chiamava gemini la prima immagine quella sulla sinistra è l'originale l'immagine sulla destra è quella che abbiamo visto tutti ieri nello shop qual è quella che ti piace di più a me sinceramente piaceva di più l'originale boh aveva un qualcosa di più che questa secondo me non ha ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance allora andiamo un attimo a perdere qualche secondo sempre sulla skin astro che una volta si chiamava invece gemini chiedo scusa se sta laggando la webcam ragazzi voi ascoltate l'audio perché non c'ho voglia di stare a sistemare non c'ho tempo adesso una volta ragazzi la skin si chiamava gemini e come vedete aveva ben due varianti la versione azzurra che è la classica e la versione rossa che è una versione particolare il problema è che questa skin ragazzi è stata appunto riadattata è stata liccata parecchi mesi fa ma è stata riadattata a questa season e come vedete avevamo anche trovato delle sfide relative alla skin tutti si aspettavano che la skin astro quella che è uscita appunto ieri avesse anche la variante di colore rosso cosa che in realtà non c'è stata come vedete si scoprì quando ancora fu gemini la skin che le challenge che dovevano essere proposte nel gioco avrebbero fatto sbloccare le varianti semplicemente facendo tre sfide che non erano niente di particolare giocare dei match sopravvivere agli avversari e fare 20.000 punti esperienza non sappiamo bene che cosa abbia in mente epic games non si sa perché abbiano deciso di cambiare tutto il set tutto l'outfit e addirittura di rimuovere la versione rossa fatto sta che oltre alla versione hanno rimosso anche il plasma carrot ragazzi il piccone che definitivamente è stato eliminato proprio dai codici di gioco quindi per il momento non lo vedremo mai in game che ci sarebbe veramente piaciuto un sacco allora fu liccato quando era pasqua quindi ragazzi non so bene cosa dirvi ma per aggiornarvi purtroppo il plasma carrot non sarà più disponibile ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi e parliamo ovviamente della collaborazione di fortnite con it in game abbiamo visto parecchi elementi che ci hanno fatto capire che qualcosa ci sarà voglio innanzitutto ricordarvi i palloncini sappiamo ce ne sono tanti sparsi in giro per la mappa abbiamo anche da qualche giorno la mattonella spostata proprio a parco pacifico che lascia intravedere proprio sotto una stanza purtroppo non ci si può accedere voglio innanzitutto darvi degli aggiornamenti ufficiali arrivano direttamente dai leakers mondiali che ci dicono che about penny wise skin quindi circa la skin di it dovremo comunque aspettare la patch 10.30 che verrà rilasciata domani 10 settembre con la patch 10.30 terminerà anche la collaborazione con borderlands quindi andrà via pandora ed effettivamente non aveva molto senso che contemporaneamente epic games facesse due collaborazioni così importanti quindi sebbene sappiamo che andrà via borderland sebbene sappiamo che ci sarà qualcosa vi faccio vedere ragazzi quello che è stato aggiunto nelle ultime ore di gioco ecco qua alcune immagini dei codici guardate qua siamo proprio nell'interno dei codici di fortnite e se vedete glider che sarebbe deltaplano clown un deltaplano che non si è mai visto e che è appunto chiamato clown pagliaccio non è l'unica cosa guardate qua ragazzi se andiamo di nuovo nei file di gioco si ritrova lo stesso identico la stessa identica stringa di codice quindi glider tbd clown e non è finita qua ragazzi se andiamo in un'altra sezione possiamo vedere che ci sarà un emote che si chiamerà creepy clown e creepy ragazzi è una cosa che si può associare alla paura in poche parole quindi completamente associabile a it al clown di it questo sarà invece un emote quindi un ballo e ancora non è finita perché se andiamo a vedere in un'altra sezione dei file di gioco troviamo addirittura una skin per le armi e per i veicoli che si chiama float float vuol dire galleggiare in inglese sappiamo tutti non voglio spoilerare niente per chi non ha visto it sappiamo tutti che è un verbo utilizzato ampiamente nel film e come vedete sempre nei file di gioco andiamo di nuovo a ritrovare la stessa la stessa voce wrap che sarebbe copertura float quindi ragazzi attenzione aspettiamoci di vedere finalmente prestissimo il set di it e andiamo con l'ultimo argomento del video di oggi ragazzi è sempre lui questa faccia meravigliosa sorridente come pochi non sto parlando ovviamente di clock ma sto parlando di tfew che non fa altro che rimanere sempre nel mirino al centro dell'attenzione con tutte le cose che gli capitano come vi avevo già citato a inizio del video tfew perde 140 mila dollari che cosa è successo semplicissimo ragazzi a un certo punto durante uno streaming di fortnite durante lo streaming di ieri se non sbaglio di fortnite tfew annuncia che sta cercando un nuovo terzetto che cosa è successo praticamente ea sport ha offerto un contratto a clock a tfew e a 72 hrs che è l'altro socio con cui giocava il terzetto di 140 mila dollari a testa per portare in streaming madden 20 quindi un gioco di rugby madden lo conoscete se non lo conoscete è molto carino comunque flippati gli americani per il rugby giocano a madden come se noi giocassimo a fifa in poche parole per spiegarvi che cosa succede fino all'ultimo non si sa nulla tfew rinuncia al contratto perché dice questa settimana c'è il torneo in trio voglio farlo lo sto facendo con clock e con 72 hrs e quindi giustamente rifiuto il contratto di ea sport di 140 mila dollari il problema è che ne 72 hrs e ne clock hanno rifiutato il contratto e quindi si sono in qualche modo vincolati ufficialmente nel dover portare in streaming madden 20 il problema è che questa cosa loro l'hanno fatta senza prendere in considerazione la decisione di tfew e tfew dice io torno a giocare con voi il trio solamente se mi pagate 140 mila dollari che sono i soldi che ho perso rifiutando il contratto con ea sport da lì è uscito il putiferio purtroppo non sono ancora riusciti ad accordarsi e quindi attualmente tfew è alla ricerca di altri due compagni di squadra per fare appunto il torneo in terzetto di fortnite insomma ragazzi le news non continuano a non essere senza fine non chiedetemi cosa ho detto in chiusura però vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle otto e mezza in live ciao ciao